segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te quello che dice ruotolo vale più comunque questa questo fotogramma compro di questi fotogrammi compro di che sicuramente gli ultimi 20 giorni della campagna di latitanza ea non di militanza dell'ischline ma tutto è come sbagliate ti hanno chiamato apposta per fare il lavoro sporco che qualcuno deve pur fare noi lo sta facendo sandro come wolf risolve i problemi di tarantino e quindi al di là di questo discorso il problema della shine vero può essere però quello è opera farina del tuo sacco non della shalai quello del che mi stupisce dalla scena è capire veramente la professoressa urbinati ha toccato il nervo scoperto che è quello che di cui stiamo parlando adesso cioè il fatto che non ci sia una narrazione non ci sia un filo e soprattutto non ci sia un'identità cioè al di là dei diritti civili cioè giustamente evocati dalla scena di difesa interi in quadrati non ci sono altre tematiche no no scusate sul salario minimo potremmo anche essere tutti d'accordo la destra ha una sua opinione che non è l'opinione di cancellazione del salario minimo si tratterà di dare il salario minimo presumibilmente con una nuova norma con una nuova bozza di leggi di darlo a chi è fuori dalla contrattazione collettiva vi ricordo che l'italia ha il più alto tasso di contrattazione collettiva sindacale in europa c'è il 70 per cento anzi l'ottanta per cento 70 la soglia minima e arriva al 100 quando ci sono i contenziosi quindi siamo il paese più blindato dal punto di vista dei contratti sindacali in tutta europa è ovvio che la destra poi fa la destra e gioca su questa su questa caratteristica no però non è detto non c'è l'esclusione totale del salario minimo è giusto che dal punto di vista mediatico la sinistra faccia la sinistra sia lei con gli altri dell'opposizione e che trovino un cavallo comune il cavallo comune il salario minimo adesso ben venga per loro però è ovvio ti devo aspettare che dall'altra parte ci sia un tipo di reazione uguale al contrario che è quella che ho spiegato prima chiaro io prima di far vedere una cosa a tutti ma